La consapevolezza di quale debba essere il ruolo dell'Italia non manca mai, manca solamente a volte dai rappresentanti del popolo italiano e a me dispiace perché ci sono partite sulle quali, indipendentemente dal fatto che noi non siamo d'accordo sostanzialmente su niente, si dovrebbe lavorare insieme. E quindi io ho considerato anche abbastanza grave che proprio in queste ore, proprio di fronte a scelte che, voglio dire, non solamente io considero francamente un po' bizzarre anche nella metodologia, penso che in cuor vostro lo capiate e lo condividiate in fondo anche voi, ma penso che sia francamente abbastanza grave che i rappresentanti del popolo italiano in queste ore, in questi giorni, dicano ai propri omologhi europei che non bisogna trattare con la Meloni, perché la Meloni, fino a prova contraria, è il presidente del Consiglio dei Ministri italiano, scelto dal popolo italiano e chi dice che non bisogna parlare con la Meloni sta chiedendo di escludere la nazione che rappresenta. E anche questo è grave, consentitemelo.